Un incidente sul lavoro è costato la vita oggi pomeriggio a un meccanico sancataldese, Antonino Lamarca, di 53 anni. Questa è l'ipotesi dei carabinieri su quanto accaduto all'interno dell'officina della vittima. Sembra infatti che mentre l'operaio stava lavorando, un grosso getto di ferro si è schizzato via da un ingranaggio, colpendolo alla testa e causando un trauma che si è rivelato fatale. A chiamare i carabinieri sono stati i medici dell'ospedale Santeria, dove il meccanico è stato trasportato d'urgenza subito dopo l'accaduto. Come atto dovuto i carabinieri effettueranno un sopralluogo all'interno dell'officina e ascolteranno la testimonianza di alcune persone presenti.